Ma il problema è che l'altro giorno io ho sentito in televisione un ministro della Repubblica Italiana che ha detto la terapia non è efficace e allora questo, perdonatemi, ma mi ha fatto saltare un impulso di risposta. Cioè, allora, se un ministro che dovrebbe essere la persona più informata sulla salute dei pazienti di un suo ospedale pubblico mi dice che non funziona e io ho dati discordanti su tutti i pazienti, beh, a questo punto glielo comunico. Siccome con il ministro Lorenzino riesco a parlare, non mi ha mai neanche chiesto di parlare, lo dico a voi e spero che gli arrivi il concetto. Spero che anche il TAR gli dia conferma di tutto quello che stiamo dicendo e questo è lo scopo per cui oggi sono usciti i dati, perché oggi ho imparato di dati e di risultati sui pazienti.